Un'infermiera dovrebbe sposarsi solo se non ha più bisogno di lavorare. Immagini, in questo nido ho da 40 a 60 neonati da sorvegliare. Mentre per il mio bambino non riesco a trovare... Mi scusi tanto, sorella! Sono arrivato un po' tardi, ho forato, porca miseria, ma devo vedere assolutamente il bambino. Dov'è quel fenomeno di mio figlio? Beh, mi dispiace, ma quest'ora è... Signorina, vede, io vengo da tanto lontana. Ma caro signore, il regolamento lo proibisce. I regolamenti, signorina, sono fatti proprio per non essere rispettati, no? Altrimenti che regolamenti sarebbero? Beh, non è proprio così, ma per lei vado di fare un'eccezione. Grazie, signorina, grazie. Karin, abbiamo un neonato che non si sia ancora addormentato? Sì, quello. Ah, meno male. Allora ti prego, levalo dal lettino e mostralo a quell'uomo laggiù. Cic, 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 cic! Vasqualino bello, fai un sorriso al papadù! Bello, Pasqualino, Pasqualino! Allora, dove eravamo rimaste? Stavamo parlando del suo bambino, se non sbaglio. Eh già. Sì, non è solamente il mio bambino che sono costretta a trascurare, o la mia casa, ma anche mio marito. Ciao, Michele. Stasera di Kiela.